Io nel mio elaborato ho voluto mettere in luce la sua attenzione verso i più deboli, verso gli ultimi della società dicendo in pratica ciò che ha fatto infatti lui da subito non si è limitato ad usare così belle parole per la città di Palermo ma da subito si è impegnato concretamente quindi lo vediamo impegnato con gli emarginati, con i carcerati affronto un tema quale è l'emergenza abitativa che è un problema rilevante nella società palermitana ciò che mi ha colpito subito è il suo modo di comunicare assolutamente cioè completamente diverso e diciamo anche come ho scritto in linea con Papa Francesco quindi abbiamo una comunicazione sobria usa parole semplici che quindi garantiscono un'immediatezza del messaggio è questo che mi ha colpito soprattutto di lui per me si commuove perché è vicino a quello che dice ai temi che affronta per me è una commozione assolutamente reale che mi ha colpito sin dal primo giorno e nel suo primo discorso a Piazza Pretoria si commuove per diverse volte quando ad esempio ringrazia Papa Francesco per la carica ricevuta anche quando ricorda la figura di Don Pino Puglisi a Piazza Pretoria a Piazza Pretoria a Piazza Pretoria a Piazza Pretoria